purtroppo buongiorno ragazzi purtroppo ho saputo una brutta notizia circa un'ora fa io ero 22 minuti fa purtroppo vedete sono sulla pagina di luca salvadori youtuber e anche motociclista è importante purtroppo se n'è andato purtroppo se n'è andato facendo un incidente su una pista come leggete i loro collaboratori hanno scritto che purtroppo è successo in germania e purtroppo se n'è andato facendo quello che gli piaceva ci dispiace io non ho altre parole da dire esprimo altro perché purtroppo è andata così salutiamo i familiari facciamo le condolianze familiari e purtroppo questa è una brutta giornata che non doveva succedere addio luca ci guarderai da lassù era un gran pilota per quanto poco era un gran gran pilota con le ansie la famiglia e purtroppo non so qualcosa cosa vuol dire perdere una persona quindi anzi ne perso due quindi addio luca salvadori ci dispiace tantissimo diciamo no 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 that no